Io avevo bisogno di un partito così per prendere fiducia, da tanto tempo che non segnava, che non giocava, mi sentiva importante dentro del campo, però non abbastava, io cambiava tutti i gol per i tre punti, perché tu ti va con una sensazione mala per aver perso in questa maniera, però ora già non possiamo fare nulla, dobbiamo rialzarlo il più presto possibile e già guardare avanti. Il primo tempo credo ben giocato da tutte e due, poi abbiamo avuto un minuto o qualcosa del genere dove abbiamo concesso due occasioni, quindi potevamo, tra altre cose c'era un tiro libero, quindi potevamo veramente crollare, invece la squadra è stata brava, ha tenuto, è entrato con un buon piglio anche il secondo tempo e quindi abbiamo rimesso su una partita bene. Ho ritrovato il risultato perché il Montesilvano non l'ho mai perso, tranne il minuto del primo tempo, tranne alcune situazioni, stava diventando un brutto disco il mio, quello che dicevo che giocavamo bene, giocavamo bene, ma poi le persone cominciano a non crederci più perché non vengono i risultati, perché spesso è legato a questo. Oggi forse nella partita meno brillante da parte nostra addirittura è uscito fuori il risultato.